Buonasera amici di ByterApple e ben ritrovati in questa video recensione oggi parliamo di un nuovo tweak presente da poco nel CDS Store si tratta di Flash sviluppato da David Goldman e Andrew Ebosh e rilasciato in occasione della tweak battle 2015 andiamo a vedere che cosa serve Flash è un tweak presente nella repo di Big Boss che potrà tornare utile in alcune situazioni una volta eseguita l'installazione troveremo una nuova icona all'interno delle nostre impostazioni in cui potremo andare a decidere se abilitare o meno il tweak se attivare un'icona normale o un'icona meno visibile e potremo anche decidere il livello della luce che andremo a richiamare tramite il flash quando è che Flash si attiva? nel momento in cui andiamo a bloccare lo schermo dovremo visualizzare in basso a sinistra dove adesso non c'è nulla un'iconcina questa icona compare solamente se ci troviamo in luoghi bui perché tramite il sensore che è presente sul nostro iPhone qua sopra l'iphone capirà che ci troviamo in luoghi bui e allora a quel punto farà comparire l'icona ad esempio ecco qua l'icona è comparsa noi clicchiamo sull'icona e il flash del nostro iPhone comincerà a funzionare ora che poi possiamo ripremere l'icona e bloccare il flash come abbiamo detto nelle imposizioni c'è la possibilità di utilizzare un'icona diversa questa è più visibile e anche in questo caso basterà premere per avviare il flash altre imposizioni che erano modificabili il livello della luce ora lo mettiamo al massimo e vediamo cosa si ottiene stessa prova attiviamo il flash e il flash dovrebbe essere leggermente più potente rispetto a prima questa era la nostra brevissima recensione di flash un tweak come abbiamo già detto è stato sviluppato da David Goldman e Andrew Ebosh e che potete trovare all'interno della repo di Big Boss il tweak è del tutto gratuito e quindi è addirittura anche open source e quindi potete trovare il sorgente anche su GitHub per questa video recensione è tutto un saluto da Luca